Con una seduta di oltre 5 ore è proseguito nell'aula a consigliare il dibattito sulla verifica di programma dell'amministrazione comunale, iniziato lo scorso 31 maggio. In apertura il Consiglio ha commemorato Cristina Alongi, la donna uccisa da un albero crollato in via Aniello Falcone, e Giuseppe Larosa, il giovane militare colpito a morte in Afghanistan la settimana scorsa. I consiglieri Pietro Rinaldi e Gennaro Esposito hanno presentato una mozione sul programma che è stata respinta dall'aula. Non solo c'è stato un consolidamento della maggioranza, ma chi ha seguito il dibattito ha potuto notare che c'è un contributo costruttivo anche delle forze moderate e della stessa opposizione di centrodestra, quindi io traggo grande conforto da questo dibattito, un rafforzamento del partito della città. Un programma più condiviso, più allargato, più forte e matura di un inesperienza di due anni, per esempio quando c'è stata la campagna elettorale non si aveva il quadro economico finanziario così drammatico e non si aveva contezza, quindi il programma fa sempre conto dei soldi che è a disposizione, ma la linea programmatica è sostanzialmente quella della campagna elettorale. Sono passati due anni, nei prossimi tre anni dobbiamo attuare quello che ancora non è stato fatto.